Un anno fa Selena Gomez ha parlato per la prima volta della sua battaglia contro il lupus eritematoso sistemico, una malattia autoimmune che colpisce organi e tessuti Non è bastata la chemioterapia, la cantante dovrà sottoporsi a ulteriori cure e proprio per questo è costretta a ritirarsi dalle scene appena terminato il suo revival world tour L'annuncio ufficiale su People, come molti sanno, ha fatto sapere l'ex stellina Disney, circa un anno fa ho scoperto di essere affetta da lupus, una malattia che provoca anche stati di ansia, attacchi di panico e depressione, talvolta molto difficili da affrontare Ho deciso di essere proattiva e di focalizzarmi sulla mia salute e sulla mia felicità Prenderò un po' di tempo per me I fan, sconvolti dalla notizia, le stanno dimostrando tutto il loro affetto, sicuramente un punto di forza per la cantante, sapete quanto siete speciali per me, li ha ringraziati congedandosi, devo fare tutto il possibile per essere al mio meglio E' Iscriviti al canale